Colgo l'occasione per fare gli auguri di una Santa Pasqua a tutta la comunità che rappresento. È un momento importante, stiamo dando un messaggio di coesione, di serenità, di sostegno. Non perdiamoci d'animo, non perdetevi d'animo. Approfittiamo di queste ulteriori particolari giornate in famiglia per ricaricarci e per dare carica ai nostri ragazzi che davvero sono un patrimonio straordinario e facciamo in modo che questa Santa Pasqua sia forse, anche se in questa modalità così un po' desueta, ancora più speciale di tutte quelle che abbiamo trascorso. Ecco che la Pasqua abbia veramente un significato di rinascita per tutti noi. Grazie a tutti.